Porta il nome della poesia Tramonto, scritta da Nadia Nencioni, la bimba di 9 anni, rimasta uccisa nella strage di Via dei Giorgofili, l'operazione che a Palermo ha fatto scattare le manette ai polsi di Matteo Messina Denaro. Il super boss mafioso, uno degli uomini più ricercati al mondo da quasi 30 anni, era stato condannato all'ergastolo proprio per l'attentato messo a segno nel cuore di Firenze il 27 maggio del 93 e costato la vita 5 persone, tra cui la piccola Nadia. La bambina, pochi giorni prima della tragica esplosione del furgone carico di Tritolo, aveva composto alcuni brevi versi su una pagina di quaderno, la stessa che i carabinieri del Ross hanno fatto trovare a Matteo Messina Denaro nell'hangar dell'aeroporto Bocca di Falco, da dove dopo l'arresto è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Era stato lui l'ultimo padrino della mafia, latitante dal 93 dopo una vacanza in una villa in Versilia insieme ai fratelli Graviano, a proporre i beni artistici nazionali come obiettivi da colpire per le stragi del 93 durante la sanguinosa lotta di Cosa Nostra contro lo Stato. Era molto più acculturato rispetto a Riina e agli altri, ha affermato l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, sottolineando che con Bagarella e Brusca Matteo Messina Denaro ha ideato e messo a punto gli attentati a Roma, Firenze e Milano dopo essere stato tra i protagonisti di quelli di Capaci e Via D'Amelio del 92 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme ad altre nove persone.